queste pubblicazioni l'ho già fatta e sequestrare a Udine sono indecenti e scandalose Gildo Morelli, integerrimo frettore e ora? sempre lui solo un po' più frivolo è un colpo di sole ma... tra il prima e il dopo c'è di mezzo lei che gli ha fatto? guardate un po' quel che segue lo saprete stasera si stasera Rimini Rimini con Villaggio e Lagrandi su Canale 5 Intima Roberts ho detto tre volte sì sì, deterge delicatamente sì, previene le irritazioni sì, protegge l'equilibrio della flora batterica ogni giorno Intima Roberts agli estratti naturali di camomilla e malva tre volte sì Intima Roberts naturale benessere il primo giorno ti ricordi? Mellin era lì e oggi come quel giorno Mellin è con te con i nuovi omogeneizzati di carne per la sua alimentazione bilanciata perché tu lo faccia crescere sano e forte Mellin l'equilibrio nutrizionale della crescita lei è un po' in sovrappeso per almeno tre settimane uno dei pasti sarà due barretti al cioccolato peso forma allora com'è andata? peso forma è buonissimo sa di cioccolato e sono rientrata nei miei mitici jeans alla sera mangio un po' di tutto come da piano peso forma peso forma perdi peso e resti in forma lasciati dietro le scelte obbligate entra in Badedas humor forte e vitale il gran biscotto un'opera d'arte gelarte di maniare bene fatto solo con porsei con rispetto parlando di quei bei grossi ostrega vero suino italiano oh ma attenti ai falsi eh rovagnati io li ho fatti io li ho firmati o c'ho la firma eh Celtic pepper roast chicken cheddar e onion caledonian tomato sono così irresistibili che non si sa da quale cominciare i piccoli problemi di incontinenza non fermeranno più la tua vitalità grazie a Atena Lady chiama questo numero per un campione gratuito e scoprirai che con il suo strato blu super filtrante trattiene le piccole perdite molto più di un normale assorbente in tutte le situazioni basta una telefonata per ritrovare la serenità e tornare a sorridere come loro chiama il numero verde 167-375-375 per un campione gratuito di Atena Lady in vendita nei supermercati e in farmacia Francesca ha detto no al colesterolo e lattosio ma da oggi finalmente posso dire sì al gelato possibile certo Valsoia è senza colesterolo e senza lattosio ed è buonissimo no al colesterolo sì a Valsoia Laura 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 più che una donna sembri la gioia di vivere fatta a persona niente potrà separarci sei troppo bella per essere vera troppo sexy per lasciarti scappare troppo perfetta per rinunciare a te Laura cosa hai da nascondere Laura qual è il tuo segreto di che cosa hai paura ce l'hai un nome Sarah Waters per il ciclo brivido caldo a letto con il nemico domani 20.50 canale 5